Buongiorno e benvenuti a tutti, oggi è martedì 22 dicembre, mancano pochi giorni al Natale, siamo qui come sempre tutte le mattine alle 7 e mezzo per leggere i giornali insieme a voi, occhi giornali che è l'appuntamento consueto del mattino sul canale 17 di Fano TV, cominciamo dal salto del giorno, vediamo subito oggi è Santa Francesca Saverio Cabrini, il sole sorta alle 7 e 38, tramonterà alle 16 e 34 per quanto riguarda il tempo invece c'è poco da dire per questi giorni che sono tutti i giorni fotocopia, avremo cielo sereno poco nuvoloso, con temperature senza variazioni di rilievo, attenzione alle foschie e banchi di nebbia, oggi, domani e per quanto riguarda il 24 che è la vigilia di Natale, ma stessa cosa anche per Natale e i prossimi giorni. Andiamo dunque a leggere i giornali e cominciamo dal resto del Carlino. La pagina di Fano, il dramma della tragedia che si è consumata l'altra mattina, domenica mattina a Marotta, dove ha perso la vita il 18enne Daniel Marinelli che viaggiava insieme ad un amico a bordo di una Fiat 500 che si è scontrata, tamponato un'altra auto dove c'era tra l'altro anche una donna di 68 anni che è tuttora, come scrive il giornale, ricoverata nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, questa donna di 68 anni che all'alba di domenica è rimasta coinvolta in questo incidente. I funerali intanto di Daniel si terranno domani a Monte San Vito dove giocava a pallone, dove giocava a calcio. Dicevo la donna dopo la tragedia questa 68enne migliora, sono stati dimessi invece gli altri due feriti e per come si è svolta la dinamica, che adesso non sto qui a raccontare, ma è un mezzo miracolo che gli altri davvero siano salvi, così scrive il giornale. Le altre notizie, la pagina di Fano del Carlino, la scuola Medianutia batte le barriere, l'ascensore è arrivato finalmente, la scuola è frequentata da 53 diversamente abili, l'ascensore è stato, cioè questo complesso, questa scuola, tra l'altro ha anche il fotovoltaico sul tetto. In regione invece il Battisti per ora non si fonderà, tutto congelato, il Cecchi invece resta a Pesaro, insomma tutto fermo, nessuno muove nulla e dunque bisognerà attendere sicuramente il prossimo anno. Andiamo adesso sull'altra pagina del resto del carino dove si parla del piano regolatore generale, l'incarico affidato ad esterni, il bando sarà pubblicato entro l'anno, richiesto un alto profilo specialistico. Paolini dice pensiamo che una figura di questo genere possa apportare qualità alla città. Poi, ma i Vangeli sono veri? risponde Leone Pantaleoni. Oggi se ne parla a Radiofano, ospite, anzi qui dice oggi, poi nel pezzo si legge domani mattina, comunque prendiamo per buono quello di oggi. Alle 9.30 Narita Ioni parla con il sindonologo ed enigmista Leone Pantaleoni che parlerà di questo intrigante titolo, certamente accattivante, i Vangeli sono veri? E poi sempre dal resto del carlino Gianni Berengo Gardin, giurato del Carnevale, sarà il presidente del secondo concorso fotografico. Maestro, in 50 anni di carriera, ha pubblicato oltre 250 libri esponendo in tutto il mondo. Ancora dal quotidiano pesarese italino Mulazzani, parliamo di uno dei più grandi costruttori, almeno fino a qualche anno fa pesarese, Maxi Sequestro, la finanza sigilla 60 milioni di euro, è il valore di 53 appartamenti e 22 terreni, anche fondi incontanti. L'indagine sulla bancarotta della dita che ha realizzato mezza pesero, compreso il tribunale, ha portato alla luce dei creditori favoriti. Per Fabio Mulazzani scatta la misura cautelare della firma tre volte a settimana. Chiudiamo con la pagina di Fossombrone, Cagli e Urbania. Anche qui vedete nella fotografia principale un'auto incidentata. Ebbene, un'ecatombe di auto sulla Pecchiese. Nessun ferito, ma le strade sono a rischio. L'altra notte a causa del manto stradale srucciolevole. Giacomo Rossi dice siamo alle solite, sempre più abbandonati ormai dalla provincia. Almeno sei auto coinvolte l'altra notte lungo la tortuosa provinciale Pecchiese che da Piobbico sale appunto da Pecchio per incidenti causati dal manto stradale ghiacciato. A chi è andata bene si fa perdere, ha raccolto i cocci e se n'è andato. Invece chi è andata peggio ha dovuto chiamare il carratrezzi per portare l'autovettura in carrozzeria. Apriamo adesso invece il Corriere Adriatico. Vediamo cosa scrive il giornale Marchigiano. Intanto a centropagina Fosso Seiore si aggravano le criticità. Il Partito Democratico rilancia il sito già oggetto di una protesta trasversale. Stiamo parlando di dove costruire il futuro nosocomio che sarà a servizio della città di Pesaro e di Fano. Un cul de sac presentato come località baricentrica. I tempi di percorrenza misurati senza il traffico mentre sopra tombare cambi idea. Errore madornale. Chiesero alle fondazioni di comprare e donare i terreni. Ceriscioli ci segnalò Berloni, Meglio Fenile o Carignano. Poi dall'altra pagina del Corriere Adriatico. Regolarizzata l'occupazione abusiva del Grisli. Il Grisli è quello stabile, lo ricordiamo ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno al campo di aviazione. Il Grisli sin dal 10 novembre ha consegnato le chiavi al Comune, tolto l'amianto. L'atto in attese di reperire un altro immobile. La notizia è stata tenuta riservata. Il centro sociale ora paga le bollette. Poi c'è Magdi Cristiano Allam. Questa sera alle 21.15 nella sala della chiesa del suffragio in piazzale Cleofilo a Fano. Sarà presentato il suo nuovo libro che si chiama, che si intitola Islam. Siamo in guerra che appunto è scritto da Cristiano Allam che oggi sarà dunque in città a Fano. Poi il sindaco dice gli immigrati sviluppano ricchezza, le donne sono il motore del fenomeno, sono oltre il 50% e si spostano per migliorare la propria vita, per fuggire da guerre e dittature o per ricongiungersi a parti della propria famiglia già emigrate. Sono le donne di cui si è approfonditamente parlato nel convegno donne e migranti. Andiamo sulla pagina adesso, l'altra pagina del Corriere Adriatico, sempre da Fano, sulla pista all'aeroporto sfumano i fondi. L'Enac stornerebbe l'investimento per lo stallo sulla via voluta dalla Regione. Mentre continua il braccio di ferro tra l'Enac e la Regione Marche per la controversia che divide le due istituzioni sulla necessità di intraprendere il procedimento di valutazione di impatto ambientale per realizzare la pista in cemento nell'aeroporto di Fano, si fanno più aleatorie le possibilità di usufruire ancora del finanziamento che l'ente di aviazione civile aveva messo a disposizione per realizzare realizzare praticamente quest'opera. Andiamo sull'altra pagina del Corriere, questa volta da Fossombrone. Fossombrone è un aspirante suicida, è stato tratto in salvo dai carabinieri, un quarantenne che voleva gettarsi dal Ponte Nuovo. Qualcuno ha dato l'allarme per i suoi strani movimenti. Poi qui sul Corriere si parla del furto, il furto di 200 pipe, il bottino a San Marino denunciato l'operaio infedele di un'azienda di trasporti. Uno dei prodotti pregiati vale 15 mila euro. E la pagina di Pesero del Corriere invece, sempre sul crack Mulazzani, ci sono 24 indagati per banca rotta fraudolenta, la finanza mette sigilli a terreni, abitazioni, quote societari e conti correnti in quattro province. Pioggia di milioni invece, quelli di cui ha parlato anche il sindaco Ricci l'altro giorno, appello della CISL a comuni e associazioni di impresa per sfruttare in modo efficace i fondi europei. Poi due motorini invece sono andati a fuoco sempre a Pesero, due motorini a fuoco, paura in un condominio, è successo, ci sono stati anche degli incidenti nel quartiere Loreto e vicino all'ospedale. L'ultima pagina del Corriere è quella di Senigallia per dirvi del giro di vite sui parcheggiatori abusivi. Giro di vite che ha deciso il Comune di Senigallia. La Lega ritira la mozione in vista di un incontro comunale con le forze dell'ordine, ma Angeletti del PD avverte gente che viene dai cantieri navali di Pesero e chiede l'elemosina, va aiutata. Mi fermo qui. Andiamo sull'altra pagina, sull'altro quotidiano per chiudere la rassegna stampa, il messaggero, la pagina di Pesero, la polizia manda in fumo, il furto di Pipe, Mastro De Paia, recuperati quasi 200 esemplari rubati all'azienda Novembre, denunciato un pesarese di 38 anni, il colpo consumato in due fasi. Anche qui si parla della banca rotta Mulazzani, costruzioni sequestrati bene per oltre 60 milioni, poi Banca Marche, si infiamma il Consiglio che boccia la mozione rivolta a Renzi, il documento presentato dall'opposizione chiedeva al Governo di rivedere il decreto. Mentre padre Pierucci andai a Portobello in TV per comprare un organo per Pesero, cittadinanza onoraria, al frate, per tanti anni a Gerusalemme, che si è impegnato con passione alla musica. Ancora lavoro, 9 mila giovani si arrendono, sempre dal messaggero di Pesero, la CISL riunisce i vertici di categoria e fa il punto sull'anno che si sta chiudendo e sui progetti per attirare fondi europei allarmante. In migliaia tra i 16 e i 29 anni non cercano un posto di lavoro e la disoccupazione sotto i 24 anni è al 24,4%. Ospedale si ragioni su risorse e contenuti prima che sul sito. Simona Ricci della CGL dice la scelta dovrebbe essere fatta dai sindaci, dato che si parla di nosocomio provinciale. Andiamo ancora sulla pagina di Urbino, del messaggero Sgarbi si dimette, la rivoluzione a Urbino è già finita, il critico riconsegna la delega, intanto la sovrintendenza invia una nuova ispezione per l'albero scultura, dice va rimossa. Non sono contro nessuno, dice ancora Sgarbi, perché me ne vado perché non mi vanno le beghe di Cortile. Il critico d'arte, il sindaco non ha colpe, la Crespini invece ha fatto un errore politico e personale, mentre la diga di Mercatale sarà ripulita dai detriti. Andiamo sulla pagina di Fano per chiudere. Fano in apertura green e senza barriere, lavori in tempi record alla scuola Nuti. Entro pochi giorni completati anche gli interventi per smantellare l'Amianto, si sta installando l'ascensore elevatore per rendere più accessibile la struttura. Il cantiere, dice Christian Fanesi, il cantiere finanziato con l'avanzo per realizzare la strada del nuovo plesso tra Cucurano e Carrara. Poi il Grizzly, come dicevamo, non è più abusivo, scrive il messaggero questa mattina, mentre Magde Allam questa sera sarà al suffragio. i 5 Stelle invece in difesa del Battisti, pressing sulla regione dove oggi dovrebbe iniziare il dibattito sull'accorpamento. Donazione degli organi, basterà invece recarsi all'anagrafe. Questa era l'ultima notizia che vi segnaliamo sul giornale, sul messaggero qui nella nostra rassegna stampa, rassegna che tornerà come sempre domani mattina alle 7.30. Noi invece ci vediamo questa sera alle 20.30 con occhio alla notizia. Arrivederci.